Bella a tutti e benvenuti in questo nuovo video tutorial, ma prima di iniziare vi chiedo gentilmente di mettere un like e di iscrivervi al mio canale nel caso in cui il video vi sia piaciuto. Volevo vedere insieme il Befomet. Mi è capitato ieri di doverlo sconfiggere insieme al mio gruppo e di conseguenza ci ho voluto fare un video. Questo qua è il World Boss Befomet. Normalmente viene chiamato in chat, quindi in chat leggeremo Befomet in tale mappa, tale CH canale. È irrispettoso addirittura farlo da soli, quindi mi raccomando chiamiamolo sempre così diamo l'opportunità anche ad altri player di poterlo sconfiggere. Quando fa queste spell mi raccomando andiamo all'interno e cosa bisogna sapere? Principalmente dobbiamo essere un party almeno da 3 persone per sopravvivere con buff e anche possibilità di fare più danni sul boss, anche per potersi curare meglio. Io in questo caso ero con E3 e Eclissidra. Questo perché? Perché quando viene sconfitto il Befomet, in questo caso eravamo nel canale 4, io ho delegato un'altra persona, quell'altra persona si teletrasporta nel canale 1 e dal canale 1 quella persona ci sammona a me e all'altro compagno. Quindi questo boss verrà sconfitto di nuovo, perché ci sono quindi 5 boss, ognuno in ogni CH nella stessa mappa. Avvenuta la sconfitta, noi possiamo finalmente teleportarci in un altro canale. Questo lo può fare chi non ha il cooldown, quindi se io mi sono già teleportato prima non lo posso fare successivamente, ho un countdown prima di poterlo rifare di nuovo, quindi lo farà il mio compagno. Il mio compagno al quale è stato delegato il leadership avrà la possibilità di andare nell'altro canale e poter sammonare me e il terzo compagno. Quindi mi raccomando almeno un gruppo da 3. Se non volete giocare con me o la mia gilta, però mi raccomando, dovete avere comunque un gruppo di più persone. Tendenzialmente questo boss non lo puoi fare se almeno non siete in 7 o qualcosa del genere. È sconsigliato addirittura anche in 3, quindi anche se andate in 3, no. Spawna una sola volta al giorno, quindi stiamo sempre attenti alla chat. C'è anche da sapere che è un boss late game, questo è un world boss della hero area, quindi se avevamo avuto problemi con i boss dell'area generici, quindi quelli che secondo me erano forti, questo qua decisamente è il più forte di tutti, più forte di tutti i boss, cioè se noi lo affrontiamo da soli possiamo schiattare e basta. Quindi questo boss droppa dei materiali per crafting, molto utili per le rune, ci droppa anche delle rune arancioni e ci dropperà anche i soldi. Quindi nel caso in cui siamo in late game, nel caso in cui abbiamo 400.000 di power, se vogliamo fare qualcosa in più, il Bephomet, ossia questo boss, è la cosa ideale. C'è anche da dire che spawna un Bephomet in ogni mappa, quindi se siamo a Rudelin, come in questo caso, questo Bephomet sarà di tipo light. Se fossimo stati nella seconda mappa, il Bephomet sarebbe stato di tipo fuoco. Questo per dire che i mob che noi dovremmo utilizzare sono sicuramente quelli consigliati nella mappa. Cionostante io sono andato contro il support, se no avrei avuto la sconfitta. Ok, come potete vedere ci stiamo delegando continuamente la leadership su ognuno sull'altro e poi ci stiamo teleportando su quella persona. Così va fatto il Bephomet. Io con questo vi ringrazio della visione e vi auguro un buon proseguimento game.